Intercultura Chi dice interculturale, se dà tutto il suo senso al prefisso inter, dice interazione, scambio, apertura, reciprocità, solidarietà. Dice anche, dando il pieno senso al termine cultura, riconoscimento dei valori, dei modi di vita, delle rappresentazioni simboliche ai quali si riferiscono gli esseri umani, individui e società, nelle loro relazioni con l'altro e nella comprensione del mondo, riconoscimento delle loro diversità, riconoscimento delle interazioni che intervengono di volta in volta tra i molteplici registri di una stessa cultura E fra differenti culture, nello spazio e nel tempo Unesco, 1980 A che punto siamo? I greci con lungimiranza definiscono i terroristi Tromocrates, governanti del terrore Uno di essi, recentemente catturato, ha dichiarato alla stampa Credevo di cambiare il mondo Sono riuscito sola a cambiare la programmazione televisiva Questa, finora, è stata la vittoria sul grande satana occidentale Gli unici cambiamenti? Le vite strappate delle vittime Le vite lacerate dal dolore dei loro cari E l'Occidente? L'Occidente continuerà a celebrare l'undici settembre con la consueta pletora mediatica Nessun atto di modestia Nessuno penserà di onorare i morti costruendo una cultura di pace su vasta scala Sottraendo magari risorse agli armamenti Per fare guerra alla guerra Alla fame Alla malattia Alla sfogliazione Allo sfruttamento Alla disperazione Che diamine Ci sono delle priorità La guerra a Saddam, ad esempio Che ancora una volta Ha giocato il ruolo dell'utile idiota Monio Vadia Ebreo E dove vogliamo andare? Ebreo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Occorre elaborare un nuovo umanesimo cui tutte le culture e le religioni diano il proprio contributo. Questo umanesimo è il miglior rimedio contro tutte le derive. Un programma culturale alla nostra portata per elaborare risposte comuni ai gravi problemi che la civiltà della nostra epoca ci pone. Una civiltà che non è più occidentale o orientale ma semplicemente planetaria. Mohamed Talbi, musulmano. Se la natura umana fosse fondamentalmente aggressiva saremmo nati con artigli ferini e grossi denti, ma i nostri sono corti, graziosi, deboli. Questo significa che non siamo equipaggiati per essere aggressivi. Persino la dimensione della nostra bocca è molto piccola. Penso quindi che la natura umana debba essere fondamentalmente gentile. Dalai Lama, buddista. Il mondo è affetto da razzismo. Questo è il pericolo. Paradossalmente è anche affetto da ideali democratici. E questa è la speranza. Mentre commette degli errori ha tuttavia gli strumenti potenziali per correggersi. Ma di fronte a sé non ha un millennio per introdurre tali cambiamenti. Né ha la possibilità di scegliere di continuare nel vecchio modo. Il futuro che gli si chiede di inaugurare non è così sgradevole al palato da giustificare i mali che ci affliggono oggi. Porre termini alla povertà e stirpare il pregiudizio. Liberare una coscienza tormentata. Costruire un domani di giustizia, rispetto e creatività. A noi si offre l'occasione, mediante un'iniziativa non violenta di massa, di evitare un disastro. E di creare un nuovo spirito di armonia tra classi e razze. In quest'ora carica di tensione siamo tutti sul banco degli imputati. Ma ci è dato ancora il tempo necessario per andare incontro al futuro con la coscienza pulita. Martin Luther King, Cristiano Battista A noi si offre l'occasione della coscienza pulita. A noi si offre l'occasione della coscienza pulita. A noi si offre l'occasione della coscienza pulita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.